Musica E Olimpia veste il desiderio di farsi la sua città immaginata c'era uno, quel personaggio così terribile contro il quale combattono i tre moschettieri chi è il personaggio terribile contro il quale è infido eccetera combattono i tre moschettieri i tre moschettieri sono dalla parte della regina ma c'era quello che era dalla parte del potere che il potere poi era lui c'era la regina, c'è il re ma c'è il potere che è più su del re della regina che cercava di essere più su del re faccio un esempio c'è il Papa che ci fa le encicliche ma quando ci sono le situazioni diplomatiche eccetera chi è che si muove? il segretario di Stato il segretario di Stato è quello che ha i rapporti diplomatici internazionali di tutto quanto così come il Presidente della Repubblica ma quello che si muove è il Presidente del Consiglio chi era? il Cardinale Richelieu di famiglia aristocratica vicino al suo castello di Richelieu perché il Cardinale di Richelieu fa costruire questa città il castello sta qua adesso vedrete quello schema c'è qualcosa di diverso qui siamo in pianura Alberti dice se la cada cosa è in pianura ma è una visione completamente diversa tant'è vero che quello che leggere deroppo sta in un libro bellissimo in francese la mano del potere si chiama perché questa è un'espressione dell'assoluta di potere un po' di parole si entra da qui una prima piazza un'arca un'uncorso un'asse dritto un'altra piazza e poi qua c'è il castello ma il discorso va rovesciato c'è lui che sta nel castello e che da qui controlla tutto è una visione analoga ma diversa vediamo il seguito ecco lo lascio ecco qual è grazie